Siamo a questo secondo mandato, una bella squadra che in parte si rinnova, in parte si conferma, importante la mission della nostra associazione che vede implementarsi su quelli che sono degli obiettivi che già nel precedente mandato volevamo portare avanti con grande convinzione e che, visti i risultati raggiunti proprio anche alla luce della pandemia, alla luce di quella che è la riforma del terzo settore, che ci ha visto sicuramente molto impegnati a ogni livello. In tutto questo i dati provinciali hanno complessivamente tenuto perché rispetto all'anno scorso c'è giusto qualche decina di donazioni in meno, quindi siamo contenti che il sistema è tenuto, ma il sistema è tenuto perché c'è un forte attaccamento, un forte rapporto tra le avis del territorio e i nostri consigli direttivi, i nostri soci e così via. Pesaro invece ha avuto una flessione con 7.063 sacche, mentre Fano ha raggiunto 8.174 donazioni. Importante sarà il ruolo che riusciremo in qualche maniera a raccogliere con Pesaro 2024, cercando di poter entrare il più possibile dentro quelli che sono gli aspetti relativi alla cultura del dono, ma l'aspetto importante è che gli obiettivi di questo provinciale siano comunque quello di accrescere la cooperazione interassociativa e aumentare la sensibilità verso il volontariato, chiaramente soprattutto per la donazione di sangue e per tutto ciò che la donazione di sangue si vede coinvolta, quindi da quella che è la donazione degli organi, da quella che è la donazione di midollo osseo, da quelle che sono le associazioni che chiaramente assistono anche a seguito di tumori e non solo. Abbiamo sviluppato e continueremo grazie anche a quella che è la sinergia con l'Università di Urbino e in particolare con Giovanni Alvarez, che è il nostro nuovo segretario, col quale abbiamo attivato e rinnovato dei progetti con l'Università per coinvolgere sempre di più gli studenti, con dei seminari da due crediti e far sì che il coinvolgimento sia massimo, non solo nella nostra provincia, ma con tutte le persone che possono effettivamente dare un contributo fattivo già dai giovani, già dai giovani che studiano e possono mettere non solo i loro talenti ma anche le loro conoscenze al seguito dei nostri progetti.